Che bello! Che bello che sei questo! Grazie, grazie! Ma siamo in onda? Sì, siamo in onda, ma hai spaccato? Cioè, hai ballato, hai cantato come Giuliano! Hai visto? Non mi fanno! No, ma bravo! Posso dire, non è le cose, quell'effetto iniziale del balletto era... Bellissimo! Bellissimo! Brava, che è una roba! Questa vedrai che qualche concerto qualcuno la prende. Questi sono dei ragazzi ucraini che fanno questa roba qua in giro. Cioè, come... Luca Tommasini, sai, lui è ammanicato con tutto il mondo e mi ha proposto questa cosa, quando l'ho vista sono impazzito, ho detto proprio impazzito, facciamola a Sanremo e... Ma, indovina un po', l'idea di fare il mash-up di Michael Jackson... Posso dire... A me! No, sei venuto a me! Io amo Domenico Modugno e Michael Jackson, ma per caso... Sai dove è venuta questa qua? Quando è partita? No, è arrivata durante il mio tour teatrale, che ho fatto qualche anno fa, quando si fa il soundcheck, si cazzeggia sempre, e a un certo punto... E ho detto, mi fai del basso di Michael Jackson? Quindi... Tum, 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 tum... E ho cominciato, è giunta a mezzanotte. Ah, perfetta! L'abbiamo messa su. Era pazzesco. Poi, tra l'altro, bisogna spegnere tutto per fare quell'effetto. Ah, sì, assolutamente! Monti! Vos avete obbligato tanto l'Alison, c'è un interruttore speciale... Sì, se sei tu... Non avete notato? Ci stiamo divertendo molto, cioè, a presentare anche in maniera convenzionale... Tu ci stai divertendo molto! Cassate a destra e a Monk! Allora, noi abbiamo un obbligo, le canzoni in gara... Ascolti, quando hai il drama, che bello che sei qua da noi, Fiori! Sì, ma io adesso devo andare, però... No! Ascolti... Sì, ma io adesso devo andare, ma io adesso devo andare,